Lo possiamo dire Presidente, finalmente si è chiuso il mercato, si parla solo di campo? Finalmente, finalmente perché credo, lo diciamo sempre tutti, credo che sia un mercato troppo lungo, soprattutto la cosa che più dà fastidio è che magari nel frattempo che gioca il campionato, che gioca nelle prime partite il mercato è ancora aperto, quindi ci si lascia sempre prendere da una vittoria, da una sconfitta, da un giocatore che magari si è fatto male o ha fatto meno bene, per cui quando si arriva a questo punto si chiude, tutti quanti devono essere con la testa sul campo e si comincia a vedere il calcio vero. I nuovi arrivi, ha fatto un sorriso particolare, ho visto poco fa Luca Clemenza colpito dal capello lungo e dalla barba. No, no, Luca è un ragazzo che non sarebbe mai voluto andare via da Pescara, quindi mi diceva, mi sembra di non essere mai andato via, io lo so perché ha sempre voluto tornare a Pescara e stare a Pescara, finalmente c'è stata la possibilità, l'abbiamo riportata a Pescara e anche se la formula è un prestito biennale, il giocatore è del Pescara. Presidente, però Clemenza e Galano sono una coppia di esterni alti a destra che incisono un lusso con la L maiuscola, sarà anche non facile gestirli? Io credo che, lo dicevo prima, secondo me bisogna guardare il noi e non l'io. Se vogliamo fare un campionato importante, se vogliamo riprenderci qualcosa che purtroppo non abbiamo più dobbiamo pensare al Pescara, non dobbiamo pensare a noi stessi o al Galano, piuttosto che al Clemenza, tutti devono dare il massimo per cercare di raggiungere un obiettivo. Il ritorno di Rizzo? Il rizzo è per caratteristiche che il giocatore ci mancava, quindi è un giocatore che noi conosciamo molto bene, è un giocatore che appena è stato contattato dal direttore e si è messo, aveva già preparato le valigie da 20 giorni e quindi noi abbiamo bisogno di quella gente lì, abbiamo bisogno di persone che vengono con l'entusiasmo, non dobbiamo convincere nessuno e questa è stata un attimino la politica che abbiamo usato quest'anno. Guardiamo invece l'attaccante a Rauti, giovane, classe 2000 e ieri ha detto che è il primo nome che avevo messo nel taccuino a luglio. Sì, è la prima richiesta che abbiamo fatto, che ha fatto io personalmente il direttore Vagnati, come gli abbiamo detto di Pescara è venuto, abbiamo deciso veramente in 30 secondi, anzi, rischiavamo a causa di un forte temporale di non fare in tempo a fare i documenti. Tenete presente che il deposito è stato fatto alle 19.56 quando il mercato chiudeva alle 20. Se non si fosse aperta questa possibilità per Rauti con il Torino, chi era il primo della lista degli attaccanti del Pescara? Per chi era partito per Milano? Cioè era partito per Milano per cercare chi? La Nini? No, no, noi volevamo prendere, no, la Nini si era già capito che non sarebbe venuto a Pescara, ma noi volevamo cercare un attaccante con quelle caratteristiche. Se non fosse arrivato Rauti probabilmente non avremmo fatto l'attaccante. L'ultima, la Carrarese. Partita difficile quanto e cosa si aspetta da questa trasferta? Tutte difficili, tutte difficili perché sono compagini che conoscono intanto da diversi anni questo campionato, sanno come affrontare questo campionato perché sanno che è un campionato non difficile di più e sanno che ci devono mettere sempre qualcosa in più e noi lo conosciamo poco e quindi dobbiamo mettere maggiormente attenzione al campionato che siamo per cominciare. La Carrarese è una squadra che negli ultimi anni ha sempre fatto bene, ha sempre fatto un buon calcio e quindi dobbiamo avere rispetto per tutti.